...ve lo portiamo noi direttamente a casa vostra. Kakà! Che tuffo nel portiere! Vuole il secondo palo qui. Deviazione aerea che non la fa. Suarez. 1-0! Può far male da lì. Inchiolibile questa parata. Ha l'occasione per riaprire il match. E c'è il gol, arriva dunque il pareggio. L'appoggio al compagno nei 16 metri. Respegge io. Lamp. Vediamo cosa inventa ora. Torno da Kakà. Palla per Suarez. E c'è il gol. Passano nuovamente a condurre. Suarez è solo. Tiro respinto da Iulis. Ma attenzione. Occhio al traversone. E c'è il gol. Allungano. Portandosi a più due. Dove è il compagno. Occhio. Sì. E calcio di rigore. Forza di Harry Kane. E c'è il gol. Il portiere non ha potuto nulla. Siamo assistendo a un match davvero. Ecco Diffo. Diffo. Una parata pazzesca. Lo Silva. Occhio a Kane. Possono trovare il gol del pari. Attenzione. Che dubbo del portiere. Calcio raggoli importanti. Accaccia nel parete. Si chiude qui il match. Con il successo della formazione di casa. Grande euforia in campo. Alla palla buona. Addomestica il pallone. Anche se c'è pressing. C'è. Cacca. C'è la frateria per andare. Respinge Ioriz. Ma non è finita. Ha spazio lungo l'out. Lascia partire il cross. Suarez. E che gol di Suarez. Favoloso. Il tiro al volo. Può far male da lì. Super Ioriz. Diffo. Grande uno contro uno. E c'è il gol. Portiere battuto ancora. Due reti di vantaggio adesso. Ecco Diffo. Attenzione pericolo. Portiere che allontana. E c'è il gol. E stavolta il portiere non può nulla. Sulla ribattuta in rete. Niente vantaggio qui. Arbitro che terma in gioco. Prosegue spedito ancora. Attacco che sfuma. Merito del buon lavoro difensivo. Pallone che viene intercettato. Game ball there. E' un bel colpo per gli altri.